Il 27 marzo sarà inaugurato il distaccamento permanente dei vigili del fuoco. La struttura polivalente si trova in località Capacqua, Poggio Scalo, e al suo interno ci sarà sia una postazione Ares 118 che una di protezione civile. Il polo della sicurezza sarà attivo H24 ed è il risultato, ha dichiarato il coordinatore provinciale CGL Stefano Cesi, di 17 anni di lotte e rivendicazioni da parte del sindacato che ha chiesto tutela del territorio di tutto il territorio sabbino. Il progetto infatti permetterà soccorsi celeri per tutti attraverso un concetto di razionalizzazione della spesa essendo polivalente. Inoltre è stata garantita una maggiore certezza del futuro di oltre 30 giovani pompieri e si attende ulteriore decreto di adeguamento dell'organico nazionale con l'inserimento di altri giovani risorse.